Sono Michele Braganti di Monteraponi, azienda situata a Radda in Chianti. Nel lontano 99 non è che ero il massimo all'università e quindi per punizione di mia madre mi spedì a Monteraponi. Noi famiglia di Fiorentina e all'inizio non è che è stato un rosa e fiori. I grandi amori iniziano piano piano e prima vendendo l'uva, poi prendendoci passione sono arrivato. Nel 2024 sarà la mia ventunesima vendemmia a Monteraponi. La mia più grande soddisfazione, che quasi mi commuovo, è stata quest'anno quando uno dei miei vini ha preso 100 centesimi. Avrei voluto condividerla con mio papà, con la mia mamma. Il privilegio è quello di svegliarsi una mattina, vedere che l'ufficio non è chiuso in quattro mura, ma è una valle con il sole o con la nebbia. Andare giù in cantina, assaggiare il vino, travasarlo. Anche prendere un aereo e andare a vendere il vino e a portare il nome del Chianti Classico di Radda nel mondo. Questo è un privilegio bellissimo. La mia annata preferita in realtà non c'è come se chiedere se vuoi più bene al babbo o alla mamma. Tutte le annate hanno una storia a sé. Potrei dirti tante annate, sicuramente la prossima. experiences, semplicire a tutte solitazioni e letterologhi di salco. Ese loore è a stata la dimensione che ci sa costruita, sicuramente la cosa abbέrica. Ese lo trovato! Ese uno che non lo guardino è continuamente in留 woò che lo scuroquire! Grazie.